Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata al 1.31 tra Reggio Calabria e Vibo Valencia. Secondo i rilevamenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto ipocentro a 10 km di profondità ed epicentro tra i comuni di San Pietro di Caridà nel Regino e Dinami nel Vibonese. La scossa di terremoto è stata avvertita distintamente in tutta la piana di Gioia Tauro e anche nella Locride, in particolare nei comuni di Gioio Saionica, San Giovanni di Gerace, Martone, Grotteria, Canolo e Mammola. Al momento non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose. La scossa è stata seguita due minuti dopo da una replica di magnitudo 2.3. Nell'erraggio di 10 km dall'epicentro si trovano i comuni di San Pietro di Caridà, Dinami, Serrata, Galatro, Candidoni, Laureana di Borrello, Giffone, Maropati, Feroleto della Chiesa, Quaro, Anoia, Dasà, Arena, Cinque Frondi e Melicucco.